Nocerino al Milan ha fatto tanti gol Attenzione, andiamo su Ricola Fermi, Balotelli Quando c'è Ricola bisogna tracere No, vi spiego come gioca il gioco Guffa, Guff Come gioca il Milan Come gioca il Milan Il nuovo Milan, ho visto che me la menate Com'è che è il possesso Non solo il possesso palla La supremazia territoriale offensiva del Milan La supremazia territoriale del Milan è questa I rossi sono il Milan Il Verona che era tutto in difesa Voro prendono la palla Ah, meno male che abbiamo un tecnico come Chirico Che ci spiega Prende la palla, tac Guarda cosa si è mangiato Rubin Cosa viene fuori quando hai finito I puntini, tac Io so cosa viene fuori Volevo farlo più veloce Tac, tac Se non esce i puntini cosa viene fuori Ma tirano mai Li stanno tre ore E quelli stanno lì Ma il Verona è stato Il vero da stare via a dire, bravi, 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 è così, è così.